Continua senza sosta l'attività anticrimine della Polizia di Stato in tutto il territorio della provincia di Agrigento. L'Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine della Questura della Città dei Templi ha applicato numerosi provvedimenti a soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. In particolare, su segnalazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Licata, CM, queste le sue iniziali, 26 anni di Licata, con precedenti per lesioni personali, violazione della normativa sugli stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale, è stato applicato il provvedimento con il quale il questore di Agrigento, Mario Finocchiaro, fa obbligo allo stesso, per la durata di due anni, a rientrare presso la propria abitazione entro le 20 e non uscire prima delle 7 del mattino. Infine, gli è stato fatto divieto per due anni di condurre qualsiasi veicolo a motore. Analogo provvedimento è stato applicato a carico di VR, 26 anni di Libera, con precedenti per violazione normativa stupefacenti, rapina, minaccia pubblico ufficiale e danneggiamento. Anche lo stesso, per la durata di due anni, sarà obbligato a rientrare presso la propria abitazione entro le ore 20 e non uscire prima delle 7 del mattino. Inoltre, sono stati applicati gli avvisi orali a MHH, 20 anni, cittadino libico, abitante ad Agrigento, a GLM, 19 anni, abitante a Canicatì, MS, 26 anni, abitante a Campobello di Ricata, SM, 31 anni, abitante a Palma di Montechiaro, LMS, 26 anni, di Campobello di Ricata, DAC, 67 anni, di Ravanusa, GM, 28 anni, ECL, di 47, entrambi di Sciacca, e infine SD, 36 anni, abitante a Siculiana. Il provvedimento di ammonimento è stato irrogato ad MF, 46 anni, ammonita oralmente a questione di Agrigento, in quanto responsabile di atti persecutori, il cosiddetto stalking, realizzato tramite SMS e pedinamenti ai danni dell'ex compagno.